Al via dal 18 aprile, il programma di visite speciali ai depositi del Museo Archeologico di Stavia, inaugurato di recente nel suo rinnovato allestimento, ideati e progettati non solo come luoghi deputati alla conservazione di un patrimonio sconosciuto e non addetti ai lavori, ma anche come spazi dedicati alla conoscenza e alla condivisione. I depositi saranno aperti al pubblico nell'ottica di una fruizione partecipata. I visitatori saranno calati fisicamente nei sotterranei, dove sono ubicati questi siti generalmente riservati a restauratori, conservatori, operai e studiosi. Nei depositi sono assenti, infatti, apparati di dascalici, pannelli e ogni altro supporto utile a comunicare. Il turista potrà dunque comprendere la funzione di cartellini con numeri di inventario, codici identificativi per rintracciare i materiali. Troverà poi pareti allestite per individuare classi, tipologie per determinate categorie di materiali, touchscreen per consultare il catalogo delle schede dei reperti. Il costo di 8 euro include l'accesso al museo.